Da questo momento in poi, loro sono prigionieri tedeschi e verranno trasportati dai miei uomini in uno dei nostri campi di prigionieri. Cominciasse a lasciare i film nelle lauree, fossi più recusato. Fatti cazzo cosa, disse, che sta parlando assai? Oh, scappavo! Scappavo! Oh, scappavo! Oh! Oh, scappavo! Oh, scappavo! Oh, scappavo! Oh, scappavo! Oh! 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 Grazie a tutti